Signor Mourinho, come si sente a Belgrado? Come le piace la nostra città? Sì, bene. Ho qua dei amici, lavoro con Top Eleven da più di 6-7 anni e torno sempre per loro e questa volta ancora meglio perché gioca a Portogallo qui. Una bella partita da vedere. Il suo cammino verso la Champions con Porto è cominciato qui a Belgrado con Partizan. Bei ricordi. Sì, mi ricordo. Prima sono venuto con Barcellona nel 1996-1997 con Strella Rossa e dopo con Porto con Partizan. Sì, li abbiamo pareggiato qui 1-1. Partita difficile, credo che Galibasic ci ha segnato per loro. però dopo benissimo con Marsiglia e con la Madrid siamo andati avanti. Si sente con Deky Stankovic? Sempre. 5 minuti fa. Sempre. Cosa fa? No, adesso sta ancora un po' finendo le vacanze, però siamo sempre in contatto. Abbiamo un gruppo di chat con tutti e della tripletta e siamo sempre divertendoci perché è amicissimo per sempre e è fantastico questo rapporto che abbiamo fra di noi. Come le pare il primo tempo la Serbia? Ha avuto occasioni al Portogallo? Ha fatto gol? No, la verità è che Serbia ha creato più situazioni di attacco, ha elaborato meglio le situazioni. Qualche situazioni per Lasovic, qualche altra per sinistra con Solarovi e Kostic. Magari un po' più di occupazione del spazio dopo il centro e poteva segnare. Portogallo va lì, un po' di casino lì con il portiero. Penso una seconda palla che è là e William fa il gol un po' contro il senso della partita perché penso che un pareggio sarebbe più adatto a quello che è stato il primo tempo. Matic è uno dei suoi giocatori preferiti. Perché? Quali sono i pregi principali di Nemanja Matic? No, Nemanja è Nemanja. Fa tutto come mi piace a me in quella posizione del centro campo. Dà stabilità alla squadra, dà equilibrio alla squadra. Le scelte sono sempre più importanti per la squadra. Gioca semplice, dà libertà agli altri giocatori più offensivi da creare. È un giocatore di equilibrio e il calcio ha fatto di equilibrio per avere dei giocatori davanti che possono esprimere il suo talento. Tu hai bisogno di qualche sicurità e di qualche giocatore come lui. Tanto lui con Milojevic in questo sistema che giocano adesso con 4-4 e dopo Tadic vicino all'attaccante è molto importante questi due giocatori del centro campo di portare a equilibrio alla squadra. Tranne che Matic, quale giocatore serbo vorrebbe nella sua squadra in futuro? Una squadra. Io lo so, ma in futuro? No, ma non dipende dalla squadra, però è così. In questo momento non c'è neanche da pensare. Siamo a settembre, a settembre non è ancora il momento dove le squadre pensano di fare qualche cambio per cercare di migliorare. Io penso che devo aspettare un po' più con tranquillità e come tu hai detto, facendo delle cose che di solito non faccio, viaggiare, visitare degli amici, per me nessun problema. Ok, penultima domanda. Possono Portogallo e Serbia insieme andare all'Europeo 2020? Speriamo, vediamo se è possibile. Sono praticamente tre squadre per una posizione di qualificazione diretta e un'altra. vediamo, questo risultato di oggi è un risultato importante. Una squadra che oggi perde non è morta, però la situazione complica un po', arriva un po' più di pressione. La squadra che vince ovviamente è una situazione più favorabile. Magari il pareggio mantiene questo equilibrio nel gruppo, però è un gruppo interessante. E ultima, cosa succederà con calcio senza Cristiano Ronaldo e Lionel Messi? E' utopia o no? Dopo Pelé, dopo Maradona, dopo Beckenbauer, dopo Ronaldo Nazario, dopo Ronaldinho, dopo Cristiano, dopo Messi, dopo, 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 dopo. Il calcio non ha dei limiti, ogni giorno per tutti i luoghi del mondo nasce dei bambini innamorati di questo gioco. Grazie tanti. Ciao.